Il 10 ottobre di 31 anni fa moriva Don Gianfranco Gaudiano, figura simbolo della solidarietà pesarese e di fatto padre fondatore della filosofia che guida ancora oggi i servizi sociali della città. Da oltre un decennio, ogni 10 ottobre, Pesaro attraverso la fondazione Don Gaudiano e il Leceis ricorda il valore di questa eredità attraverso la giornata della solidarietà. Lo farà anche giovedì coinvolgendo otto istituti scolastici e ospitando diversi momenti di confronto, a cominciare dal mattino al teatro sperimentale che accenderà un focus sul progetto di Casa Moscati che è stata la prima casa d'accoglienza per malati di AIDS in Italia. Il progetto Casa Moscati è nato proprio da Don Gaudiano, era vivo quando è nata Casa Moscati nel 91-92, inizialmente una piccola cosa, oggi sono ospiti di Casa Moscati ben 10 persone che sono lì e vivono la loro vita normale perché oggi grazie a Dio con le terapie che ci sono vivono una vita abbastanza sana, normale, tranquilla insieme in questa realtà assistite dagli operatori di Casa Moscati. L'attività del CEIS e i suoi servizi d'accoglienza ispirati ai valori di Don Gaudiano saranno invece oggetto dell'appuntamento con la cittadinanza che si terrà nel pomeriggio a Palazzo Montagnantaldi. È certo la comunità di Via del Seminario che continua all'interno del CEIS a portare avanti la sua eredità diciamo perché alcune opere sono passate in altre mani e alcune opere sono sono nate anche dopo della sua morte, però sempre nel suo spirito e direi nella... ispirate proprio da lui anche concretamente queste opere che sono nate.